Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, non sono riuscito a fare il post partita di ieri subito dopo il fischio finale, ma la faccio adesso che magari riesco a completare un po' il discorso. Allora, cosa dire, lasciando stare l'ennesimo rigore non dato, grande come una casa, dopo quel rigore che non c'era all'andata col Cagliari, non mi posso arrabbiare più di quel tanto per quel rigore lì perché alla fine la colpa è nostra. Non siamo passati in finale, è una finale che avevamo in mano, non solo per la posizione in classifica finale, il quarto posto, ma proprio dopo i primi 45 minuti della semifinale dell'andata dove abbiamo letteralmente dominato il Cagliari. Ma dopo, per colpa del nostro allenatore che ha fatto dei cambi senza senso, per colpa dell'atteggiamento della gente che è entrata in campo, con i cambi di Ranieri il Cagliari aveva cambiato completamente la partita. Il ritorno, il Parma non mi è piaciuto, quella non è un atteggiamento di una squadra che vuole ribaltare la sconfitta dell'andata, non è l'atteggiamento di una squadra che vuole andare in Serie A. Dovevamo fare molto 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 di più. Il rigore magari, se ci davano quel rigore magari la partita cambiava, può darsi. Ma conoscendo questo Parma, non lo so, sinceramente, perché il Parma ha dei problemi mentali, psicologici, di approccio, di atteggiamento, tutta la stagione anche così. E' un po' sui giocatori nostri, che sono, non tutti, ma alcuni hanno una mentalità limitata, un atteggiamento non adatto a una squadra che vuole andare in Serie A. Un atteggiamento non adatto alla storia del Brasone di una squadra della maglia, della nostra maglia, della nostra storia. E sia per colpa di un allenatore che ha dato una mentalità da perdenti in maniera incredibile. Un allenatore che ci ha messo tutta la stagione per capire che il passaggio di palle in Serie B è inutile. I coni giocatori che ha non poteva farlo. Un allenatore che non ha frazzegato due cambi in tutto il campionato, ma solo perché Camara, quasi tutte le volte che è entrato, ha ascoltato la partita. E' un proposito di cambi. Io, un umile lavoratore, dopo 22 minuti dico, Bernabè oggi sta facendo letteralmente schifo. Secondo me dovrebbe mettere Camara, cambierebbe il volto della squadra. E lui l'ha fatto, ma al 65esimo. Che Bernabè non ha azzeccato una palla, una, in tutta quella semifinale, nella partita di ieri. Una. Mann, impresentabile, io spero che Mann sia ne vada via alla svelta insieme al suo amichetto Miaila, non ha fatto nulla per tutta la partita, lo toglie al 65esimo. Allora tu eri, mi dispiace, dei seri problemi. Cioè, c'è qualcosa che non va. O forse sono io che sbaglio, ma insomma, ho i miei dubbi. All'andata, quando il Parlamento non dovevi fare i cambi, hai tolto Somma, il migliore in campo l'hai tolto dopo neanche un'ora? E poi mi vedi, quando devi fare i cambi non li fai? Cosa devo dire a uno che mi mette zaini macchia terzino? Di cosa stiamo parlando? Poi la colpa è anche del giocatore, perché, a parte veramente poche, tipo Der Prato, Kulibaly, Vasquez ieri, pessimo. Però non gli posso dire nulla, perché ci ho trascinato in questi due anni. Forse l'anno scorso, senza gli illuseremo pure elettrocessi in C. Estevez e qualcun altro, insomma, che adesso non mi vengono in mente tutti, gli altri non meritano la maglia. Io sinceramente, gente come Mihaila, appunto, Manno, Zorio, Kobo, Balog e altri, sinceramente io non le voglio più vedere con la maglia del Parmo. tre anni qua, e non hanno dimostrato assolutamente nulla. Di mia cosa mi serve un giocatore tipo Manna, che mi fa un gol meraviglioso, tipo col Bari alla prima di campionato, col Cagliari in campionato, gol del 2-1, e poi nelle altre 15 una meba, cioè non è in campo, che cosa mi serve. L'altro Mihaila, che non gioca mai per infortuna, quando gioca mi va a fare il cucchiaio, rigore sempre contro il Cagliari tra l'altro. Cioè, ragazzi, dove... Di cosa stiamo parlando, insomma? Scelte sbagliate del direttore sportivo, presidente che fa gli acquisti con gli algoritmi, allenatore appunto che non ci capisce nulla. Durante l'anno abbiamo avuto gente tipo Oster Bold, uno dei pochi buoni che avevamo, lo metteva esterno d'attacco, saldi esterno d'attacco, delle robe allucinanti. Poi, Cercati, il miglior difensore centrale che abbiamo è il Rosa, non lo faceva giocare per Balog, che regalava un gol a partita. Andatevi a guardare gli highlights di Bari Parma del 4-0. E vedete cos'è Balog. E lui lo faceva giocare. Andatevi a vedere gli highlights del ritorno di Parma Ascoli. Il rigore che l'ha procurato. E lui faceva giocare lui, non cercati. Cobo allucinante, il primo gol all'andata è colpa sua. Ieri è entrato, è andata a piadrare la palla penetrato, non è neanche controllata. Osorio si fa superare nettamente in vantaggio, si fa superare da Loguma, anche da un altro. Non mi ricordo chi era. Cioè, stiamo scherzando. No, no, no. Io non mi posso arrabbiare con gli arbitri perché Parma è tutto l'anno che fa così. È tutto l'anno che fa un campionato veramente ridicolo. E poi vanno sotto la curva e vengono pure applauditi. Ma applauditi che? Fischi. Insulti. Altro che applaudire. Appunto, io posso applaudire appunto Del Prato, il Colibali degli ultimi due mesi, il Somo degli ultimi due mesi, Vasquez e Stevez, Camara, anche Bonni. Posso applaudire. Che negli ultimi mesi si è un po' impegnato di più. cercati, posso applaudire. Ma gli altri? Una nota che devo assolutamente dire è Bernabé. Mi sta assolutamente deludendo. C'è questa cosa qua che se tu esci dal dalle giovani del Barcellona e del Manchester City devi essere per forza un fenomeno. No. Perché ieri Bernabé ha perso tutti i palloni possibili, immaginabili. Non ha azzeccato un passaggio, anche quelli facili. L'unica cosa buona che ha fatto è stato tipo un intervento in difesa nel primo tempo. Ma non solo ieri, anche hanno andato col Cagliari. Cioè, il allenatore mi toglie Stevez, aveva Munito, che rischiava, ma mi toglie lui subito, all'intervallo, e mi tiene Bernabé che hanno fatto due passaggi da scuola calcio, che ti dicono di non fare passaggi orizzontali in mezzo al campo. L'ha fatto due, due ne ha fatti facendo partire un contropiede al Cagliari nel primo tempo dell'andata. Stavo scherzando. Poi da uno con le sue qualità, da che ce le ha le qualità? Un gol? Uno? Campionato? Quattro assist ha fatto? Tre? Quattro? Un po' pochino, eh? O è Pecchia, che non lo sa usare, cosa molto probabile, perché con gli Achini, Bernabé ha fatto tipo quattro gol, quattro assist, in solo sei mesi, metà campionato. Oppure, boh, si deve dare un po' una svegliata, sinceramente. perché se è questo, Bernabé si può anche vendere, tranquillamente. Che dire, non so neanche se dire che il Cagliari è meritato, perché è tutta la stagione che il Parma perde, ma perde i meriti suoi. Cioè, non c'è una partita il Parma, forse solo col Bario, appunto, al campionato, ma anche lì, il Parma è sceso in campo, cioè, non è sceso in campo, con Bario, con Bario, che è arrivato appunto due gol subito. Non c'è una sconfitta del Parma dove l'avversario ci ha sulclassato, ma il Parma che commetteva degli errori allucinanti, tra errori difensivi, errori appunto del allenatore con il suo gioco di possesso pali inutile del cavolo. Cioè, veramente, questo campionato l'abbiamo buttato noi, sia nella stagione regolare che in questa finale ampiamente alla nostra portata. Io non so chi volere in Serie A, tanto, forse il Cagliari, così ciò le diamo dalle balle, perché avere il Cagliari anche l'anno prossimo, un'altra squadra che vuole andare in Serie A dopo la Sampdoria, dopo rischiamo di avere pure il Verona, il Palermo magari si sveglia quest'anno, e l'altra per la salvezza, per la promozione, il Barrio, se vuole magari riconfermare, migliorare. No, cioè, dovremmo salire quest'anno, l'anno prossimo sarà ancora più difficile, sulla carta almeno. Se la dirigenza, la presidenza, l'allenatore che purtroppo mi sa che rimarrà, non si svegliano. Cioè, comunque in Serie A c'è andato con la Cremonese e con il Verona, ma che squadra aveva la Cremonese l'anno scorso? Cioè, tre nomi, Carne Secchi, Fagioli o Colli. Per la Serie B sono fuori portato, fuori categoria. E me ne dimentico Gaetano e me ne dimentico altre. Giocatori super di Serie B e giocatori che stanno facendo benissimo anche in Serie A. Fagioli, adesso è il titolare del centrocampo della Juventus. Cioè, se ci viene andiamo conto. che dire, ieri appunto, per quanto a parlare di ieri è un atteggiamento che non mi è piaciuto, dovevi dare di più, dovevi giocare alla morte. Due tiri, due tiri in porta, uno quel gol, non un gol che non si è capito perché l'arbitro l'ha confermato, poi dopo sono andato a guardare il VAR che in teoria ci sarebbe l'Algonlect Technology, ma vabbè. E poi il tiro di Zanimacchi ha messo terzino, ricordo, sulla Traverse. Perché il Palma è vero che nel complesso, a parte un po' l'ossatura di qualche giocatore buono che vi ho nominato in questi video, il resto è imbarazzante come squadra per me. Abiternata appunto l'ominatore Scars, quello che vuoi, ma poi siamo anche la sfortuna ci sta perseguitando ormai da tre anni a questa parte perché anche quando siamo retroscessi tre anni fa abbiamo avuto veramente squadra indecente orribile per errori di Faggiano e di sette soci ricordiamo, non di Krause e di Carli. Con i Krause c'erano le sue colpe negli anni successivi. Anche questo è un concetto che magari un giorno parlerò. Siamo retroscessi con delle sfiga allucinanti anche l'anno scorso comunque traverse e pali in maniera non so che uno dirà dall'esterno ma tutti dicono traverse e pali sì sì giusto però delle robe tra errori nostri ingenui da imbecilli e un po' di sfortuna rimane in Serie B per il terzo anno di fila. A questo punto l'unica cosa che mi fa valere mi fa non so parlare ma felice tra virgolette di rimanere in B è che c'è il derby scusare il Gianna ma sinceramente preferivo assolutamente andare in Serie A e il derby mi frega poco ora che c'è balliamo che dire non tranno deludente io non sono per niente fiducioso anche per anno prossimo perché secondo me la società non ha capito gli errori che ha fatto è poco umile molto superbo la società ha sbagliato di tutto e di più e continua a dire che sono facendo un ottimo lavoro con un allenatore che abbiamo non ho fiducia per niente anzi non mi sembra un allenatore umile da capire i suoi errori anche perché li ha fatti anche ieri il resto della squadra soprattutto i panchinari inadeguati per la nostra star e la nostra maglia e niente più che deluso sono arrabbiato perché io in Parma sono diventato a vederlo così scialbo così poco voglioso ma sono arrabbiato per tutto il campionato sprecato e poi vengono pure applauditi ma dove non meritano gli applausi a parte quei pochi che vi ho nominato grazie di questo grazie per chi avrà guardato questo video e il campionato per noi è finito magari faremo qualche video per il post partita della Fiorentina per il post partita dell'Inter e anche poi quando ci sarà il calcio e il mercato parleremo magari di qualche acquisto sia del Parma che anche di altre squadre dai un saluto ciao ciao